Capitolo undicesimo Tanto la contessa che il galantino stettero per qualche tempo immobili e perplessi, la prima al balcone, il secondo sul felse della gondola. Donna Cleglia fu molte volte in procinto di parlare, molte volte il galantino fu tentato di avventare ingiurie a quella che in così mal punto lo aveva sorpreso. Il pensiero però di essere stato riconosciuto lo aveva colpito in modo che gli tolse il coraggio e la sfrontatezza, onde, senza dir nulla, saltò dal felse alla poppa e mosse la gondola. Allora la contessa si ritrasse assai turbata perché, dopo la prima compiacenza d'aver salvato una fanciulla inesperta, gli sovvenero i timori per se stessa, poiché ben conoscendo l'indole tristissima di quel giovinetto, rifletteva che, nella condizione in cui ella trovavasi, da quell'incontro disgraziato potevano derivarle altri guai. Donna Cleglia non sapeva che in parte, come stessero e camminassero le cose a Milano, e ciò per il carteggio che teneva con donna Paola Pietra, la quale, da un lato, prudentemente le taceva alcune cose, e dall'altro non poteva conoscere tutto, nemmeno essa. La contessa aveva dunque raccolto dalla terza lettera l'arresto di Lorenzo Bruni, tutore della Gaudenzi. Aveva maravigliato al racconto della maschera di cui era stata la vittima. Si era consolata al pensiero che Amorevoli era ancora in prigione, che sorta di consolazione. Ma il cuore umano è fatto così. Aveva saputo le pratiche che in sui primi giorni i parenti di lei, la madre e il marito, avevano fatto per tentare di venire sulle sue tracce, ma come se erano poi racquetati. Se non che donna Paola avea l'escritto che a Milano correva qualche voce, non sapeva poi in che maniera, della sua dimora nella città di Venezia, e che però attendesse a stare nascosta e ritirata, che in ogni modo le avrebbe fatto noto prestissimo se potesse trattenersi a Venezia con fiducia o le fosse necessario rifugirsi ad altro luogo con maggiori cautele di quelle che si erano usate prima. Non è dunque a dire quanto, dopo aver appagato lo slancio generoso della sua pietà, si pentisse del non essersi saputa misurare e tenere nascosta pur nel momento che era accorsa all'altrui soccorso. Se avesse saputo che, nell'intenzione di tutto il patriziato amico dei suoi parenti, si desiderava invece che ella stesse lontana da Milano e si fingeva di non conoscere dove ella si fosse ricoverata, perché alle loro mire giovava il supposto che Lorenzo Bruni, più che della contravvenzione alle leggi sulle maschere, fosse colpevole di un rapimento eseguito da altri per conto suo, non si sarebbe dato tanto affanno dell'essersi fatalmente incontrata con l'ex lacche di casa F. Del rimanente, se donna Cleglia poteva avere qualche timore della presenza del Galantino in Venezia, non è a dire quanto costui, dopo il sobollimento della prima sorpresa e dopo la prima furia, maledisse cento volte la coincidenza del trovarsi la bellissima giovinetta Zen proprio nel palazzo di rimpetto al quale doveva venire a dimorare la contessa Cleglia V. Ma ciò che lo coceva e gli metteva in cuore di strane paure, che ben egli sapea come stava, era quell'essere stato sì tosto riconosciuto, travestito qual era e pur fra l'oscurità, onde mille altri sospetti gli entrarono nell'animo. Per quanto il Galantino della pravità avesse tutta la naturale vocazione e la sfrontatezza, e fosse di quelle complessioni fisiche così perfettamente costituite che non sono accessibili nemmeno ai turbamenti morali, tal che ai disappunti, agli sfregi, al disonore, alla cattiva fama aveva fatto il callo, pure non dormì troppo tranquillo in quella notte. Alla mattina però si rifrancò tutto quanto, che con l'aria fresca che veniva dalla terraferma gli sovvennero anche i secondi pensieri, e si meravigliò di non aver considerato a tutta prima le circostanze speciali in cui versava la Contessa Clegliavi, poiché anche egli conosceva la storiella di Milano e la fuga di lei, e come ella se ne stesse in Venezia di contrabbando. Perciò Duomo assalito, quale egli era, pensò di farsi assalitore, cangiando in sull'istante sul campo di battaglia e tattica e strategia, e d'una in altra cosa fermò il partito di recarsi a fare una visita alla Contessa. Nessuno può immaginarsi la straordinaria svegliatezza della mente di quel tristo giovine, e il colpo d'occhio onde sapeva scansare i pericoli nel punto da affrontarli, e come, ad onta di così poca età e di una educazione si rozza, avesse il senso di quelle cose che non si imparano che con gli anni, con la squisita cultura e con una gran pratica di mondo. Aveva poi una memoria prodigiosa e una facilità strana da prendere, tanto che, per venire ad un esempio, in quel mese da Chestette in Venezia si era impadronito di una buona metà del dialetto veneziano, e già ne faceva qualche sfoggio per i suoi fini. Non è poi a dire come, della propria bellezza, di cui non si invaniva ma che valutava quasi a prezzo di stima, aveva stabilito di cavare quel partito che altri trarrebbe dalla ricchezza e dalle altre facoltà che hanno peso e misura. Sicché, contando sulla forza, qualche volta onnipotente di un bel esteriore, aveva pensato che a lui sarebbero state lecite tante cose che agli altri potevano venire ascritte a colpa. Perciò aveva gran cura della propria bellezza, e dell'incarnato delle proprie guance, e dei denti bianchissimi, che puliva e curava con la sollecitudine del soldato il quale frega col pomice la baionetta, non per amore della baionetta, ma perché gli deve servire in fazione. La natura, insomma, aveva allargiti a lui tutti i suoi doni, ma egli aveva condotto le cose in modo da convertirli tutti in altrettante armi d'offesa, e ciò senza nemmeno averne avuto un proposito deliberato. Sibene, torniamo a ripeterlo, per quella pravità irresistibilmente attiva della sua natura, che solo sarebbe simitigata, o forse anche si sarebbe tramutata in qualche altra cosa se avesse avuto un'altra nascita e un'altra educazione. Allora non sarebbe stato il galantino pieveloce, ladro e truffatore, come lo vediamo indicato nelle carte che abbiamo sott'occhio, ma sarebbe riuscito un gemello, per esempio, di Fouché o di Talleyrand. A quell'ex laquè travestito occorrevano molte ore di toaletta, e in quel mattino adoperò la pomata di riserva per poter far visita, con un certo successo, secondo lui, alla signora contessa. Vestì pertanto l'abito più sfarzoso che aveva, un veladone ampio di velluto nero, tutto tempestato di puntine d'oro, col panciotto di una stoffa a duplice trama di fil d'argento e di fil di setà azzurra, che dava molteplici combinazioni di luce, d'ombra e di colori ad ogni screzzo di piega, coi calzoni corti di spinone, a venti legacci di velluto a punte d'oro, come il veladone, e fibie di brillantini. Tutto il resto faceva corredo e complemento rigoroso al vestito principale. Non solo dunque aveva adottato lo sfarzo e la ricchezza, che a ciò poteva arrivare in 24 ore qualunque villico arricchito, ma nelle stoffe, nei colori, nel disegno dei ricami, nell'eleganza totale della conciatura, metteva l'intelligenza dell'uomo squisito e persino il colpo d'occhio dell'artista, talché pareva un cavalierino che tenesse il privilegio del buon gusto dal lungo uso della ricchezza, delle continue consulte col sarto, dai viaggi a Parigi, che allora era il quartier generale della moda, e lo era diventato fin dal tempo di Luigi XIV, che gli storici si sentirono obbligati a chiamare grande, forse per non aver pronta in quel momento un'altra parola. Ma vedendo ora al fatto, quando il suardi fu bene in assetto, dalla casa dove dimorava presso al palazzo Pisani, in campo San Stefano, discese a Rio, dove l'attendeva la gondola con un gondoliere in livrea, al quale nell'entrar sotto il felse gridò «Casa Salomon». Allorché la gondola si fermò davanti allo scaglione di quella casa, Galantino diede al gondoliere un breve portafoglio di setta legato con nastri, fuori del quale spuntava una cartolina. Allora, come ognuno sa, non c'erano biglietti di visita propriamente detti e propriamente fatti, ma c'erano i loro precursori, e già che era il secolo delle eleganze più profumate e delle caricature, chi voleva farsi annunziare a qualcuno per una visita faceva presentare al guardaportone, perché lo facesse avere al padrone della casa, un bigliettino su cui scriveva il proprio nome, il quale bigliettino veniva sempre collocato in un portafoglio, in un astuccio, in un vezzo qualunque. E tali vezzi qualche volta avevano un gran valore, essendo d'argento, d'oro e persino ornati di pietre preziose, a seconda della ricchezza del visitatore e del bisogno che aveva di rendersi gradito e di imprimersi bene nella memoria di chi voleva visitare, perché era di prammatica che il padrone o la padrona di casa, tolto il foglietto e letto il nome, si tenesse il vezzo per sé, come pegno e come dono. Il suo ardi, che conosceva tutte queste bizzarrie della moda, aveva creduto bene di farne uso in quell'occasione. Il gondoliere, chiesto pertanto della signora contessa B, presentò al servo il portafoglio di seta. La prammatica non voleva che in una prima visita si sfoggiassero i metalli fini e le gemme. Il servo, il quale era stato indettato dalla padrona di casa fin da quando la contessa le era stata raccomandata, rispose non saper nulla di quel nome, ma che avrebbe fatta l'ambasciata alla padrona stessa. Quest'era in casa e disse, vada la contessa e domanda a lei quel che si ha a fare. Dal nome che è lì dentro è la pigliera norma. Così è entrato il servo nell'appartamento della contessa e, fatto se lo annunciare, le presentò il portafoglio di seta. La contessa levò il foglietto e lesse Galantino per due parole. Rimase stupita e sconcertata. Il servo, che era a parte degli arcani, le chiese se avesse a licenziare il gondoliere. La contessa non sapeva che risolvere. Fremeva e arrossiva al pensiero di dover ricevere una tal visita. Dall'altra parte temeva a rimandarlo. Però, dopo molte titubanze, fallo entrare, rispose. Galantino, ad onta della sua baldanza, stava pure in gran paura. Non gli venisse un rifiuto dalla contessa. Perciò, quando il suo gondoliere e la livrea di casa Salomon gli dissero di restare pure servito, balzò fuori dalla gondola tutto pago e con la sua baldanza raddoppiata e s'avviò, preceduto dal servo, all'appartamento della contessa, annunciato lungo i corridoi e le vaste anticamere dallo scricchiolio delle sue scarpe di sommacco. Quando il servo spalancò i battenti dell'uscio della sala, dove stava la contessa, egli si trattenne in gran rispetto sulla soglia, curvando il tergo e chinando la testa fin quasi alle regioni dell'ombilico, di modo che l'elegantissimo fodero della sua spada, alzandosi in quel movimento, veniva con la punta a trovarsi a livello della testa. La contessa Cleglia, stando in piedi, con la mano dritta appoggiata ad un tavogliere, come una regina Elisabetta in atto di dare udienza, chinò leggerissimamente il capo, in maniera però come se la tentasse di ingannare se stessa sulla realtà di quell'atto. Ma Galantino, alzatosi tosto, varcò la soglia e fu nel mezzo della sala faccia a faccia con Donna Cleglia. Il servo si ritrasse, né la contessa gli osò dir di fermarsi, quantunque ne avrebbe avuta tutta la volontà. Passò qualche momento in cui Galantino stette aspettando che Donna Cleglia si ponesse a sedere, ma quando vide che ella non muovevasi senza mostrare il benché minimo disdegno a quell'attitudine di regina in trono, con una disinvoltura piena di garbo e un sorriso dolce, sebbene un po' affettato, le offerse egli stesso una sedia, rompendo in questi termini il silenzio. Signora Contessa, io non sono più il Galantino di Milano. Sono il signor Andrea Suardi, venuto a fermare la mia dimora a Venezia, perché qui, secondo il mio gusto, si spendono meglio i denari e si gode meglio la vita. La fortuna mi è stata favorevole e le carte e i tavolini verdi hanno fatto venire nelle mie mani il danaro altrui. Oggi sono benestante e ricco. Col tempo poi non è affatto improbabile che io diventi anche nobile. Conosco due o tre qui a Venezia, che, cent'anni fa, attendevano al miglioramento delle carni suine, ma che, per aver fatto in processo d'un tempo un prestito alla Serenissima Repubblica, oggi sono nobili, dell'ultima qualità, questo si intende, ma nobili in ogni modo. In quanto a me, poi, l'assicuro, signora Contessa, che del mio passato appena mi ricordo. Così dicendo, e porgendo la sedia col gesto, pregava Donna Clelia a voler sedere. Per quanto la Contessa sentisse dentro di sé sdegno e disprezzo, e persino paura di quel vezzoso serpente che le stava davanti, pure si lasciò per il momento quasi deviare e placare da quell'aspetto così vago e sorridente e da quell'eleganza così profumata. Credeva, ma senza che nemmeno sapesse formularla cosa a sé medesima, che quel volto geniale, quei modi eleganti e quel ricco vestito costituissero come un muro di divisione tra lei e la biettezza e la tristizia di quel giovane. L'uomo è così fatto, anche il più sapiente, anche il più astuto, ama lasciarsi ingannare dall'apparenza, anche allorquando sa benissimo che di sotto sta il marcio. La Contessa dunque accettò la sedia e, di rimpetto a lei, si pose a sedere il galantino. Mi rincresce, disse allora questi, che io debba incominciare il mio discorso con un rimprovero, e sorrideva maliziosamente mentre la Contessa, abbassando gli occhi, non rispondeva. Che malefizio egli è, poi, seguiva il galantino, perché lo si debba rompere in due da chi veglia a notte tarda. Che malefizio può essere egli mai che un giovinotto, il quale non è ammogliato, faccia la sua corte ad una ragazza che non è maritata. E fece un'appoggiatura su questa parola e, nel pronunciarla, tutto il dolce che prima avea tentato di accumulare nella sua vivace pupilla, scomparve, per lasciare intravedere un guizzo di luce sinistra e serpentina. La Contessa, tutta rimescolata a quelle parole, alzò di repente gli occhi che aveva tenuti abbassati, e li fermò con tanta serietà negli occhi mobilissimi del galantino, che questi pensò di ammorbidire la lama e di darle una piega. Io non aveva cattive intenzioni, continuava, e non ne ho. Ma che colpa è la mia se quella ragazza è la figlia del conte Zen? Poiché venga il diavolo a portarmi via, ma posso giurare, che aveva tanto la testa ai tavolini verdi in questi giorni, che io non pensavo a ragazze, ma colei mi parlò tante volte e così chiaro con quei suoi occhi da penna di pavone, che a non tenerle dietro e a non accompagnarla per vedere dove fosse il suo palazzo. Sarei stato una gran bestia. Il lettore si avvedrà come lo stile di queste ultime parole di galantino faccia un po' di sconcordanza con i modi eleganti del suo primo presentarsi. Ma un giovane che era nato da un carrozziere ed era cresciuto tra le gambe dei cavalli, e dai 10 ai 20 anni non aveva fatto altro che correre facendo gara con essi, bisognava bene che di tanto in tanto, a sua insaputa e adonta della sua straordinaria attitudine a saper uscire da se stesso, lasciasse tuttavia trapelare fra poro e poro l'acre odor di cipolla. Senonché la contessa non lo lasciò continuare, e soggiunse, in conclusione per qual fine voi oggi siete venuto da me? Per due oggetti, quali sono? Uno è dedicato all'ottima signora contessa, e si inchinò. L'altro deve fruttare interamente per me, e del resto una mano lava l'altra. Non vi comprendo affatto, mi lasci parlare, e vedrà la signora contessa, che forse le verrà fatto di capirmi. Capitolo 12 A queste parole Donna Clelia si alzò, fece alcuni passi e si ricò in sull'uscio, con aria sbadata in apparenza, ma per vedere se qualche servitore fosse lì presso. Poi ritornò all'obliqua scherma di quel dialogo, disposta a parlare chiaro e a non lasciarsi intimorire. «Sentiamo dunque», ella disse, «qual è la cosa che pretendete usufruttare per voi?» «Una cosa semplicissima, signora contessa, ed è questa. Che dal momento che in Venezia, ella è la sola che sappia quel che io sono stato una volta? Voglia così avere la compiacenza di non guastare con delle importune rivelazioni la mia condizione da adesso. La qualcosa spero che la signora contessa non mi vorrà negare, anche per riguardo a ciò che, se io, per esempio, andassi a Milano e qualcuno mi chiedesse dove sta al presente Donna Clelia V, io non avrei certamente l'obbligo di tacere. E allora a che scopo mettersi in carrozza e correrei a rompicolo per togliere l'alena a chi poteva venire dietro, se il signor conte non dovesse far altro che attaccare i cavalli di posta, noleggiare la gondola di mestre e venire a Venezia a ripigliarsi la sua moglie». «Parliamo di voi», disse allora compiglio assoluto la contessa, «di voi e dei vostri bisogni, e lasciamo agli altri la cura dell'altra cosa». Il Galantino fu punto dall'accento altero più che dalle parole di lei, onde si alzò anch'esso, e volendo come insegnarle ad essere un po' più umile, assunse un fare triviale e sguaiato. «Ma sapete però che è bella signora contessa? Di tante donne e gentildonne, di tanti guarnelli e guardinfanti che stanno a Milano, chi avrebbe detto che la più fredda doveva essere la più calda e che le balzane meglio impiombate dovevano essere le più leggere? Però bisogna confessarlo, la signora contessa è stata di buon gusto e vivano gli artisti da teatro. Anch'io, per esempio, se trovassi una donnetta di quelle che si imbellettano in camerino, potrei mettere da un canto la contessina bionda e appagare così i rigori della sua protettrice». «Senti, Galantino, vuoi tu che io suoni il campanello e dica al servitore di condurti alla gondola? Bada che in questa casa capitano patrizi del Gran Consiglio, procuratori e avogadri, e se io dicessi loro chi sei tu e chi eri tu e cosa tu hai fatto, e come tu vesta da gentil'uomo, essendo stato un lacche per tentare le figliuole dei nobiluomini veneziani, presto ti metterebbero al buio. A Venezia si fa presto e sarebbe per loro un tratto di indulgenza a scrivere al Senato di Milano. E siccome chi si traveste e si vende per quello che non è mette di grandi sospetti, non so quel che il Senato di Milano farebbe di te quando il Senato di Venezia pensasse a consegnarti al pretorio del confine del Ducato perché ti inviasse dritto al capitano di giustizia. Sappi che il tuo nome passò per più bocche la notte che i servitori di casa F videro l'ombra di un uomo a fuggire dalla stanza del Marchese. Queste ultime parole furono di tanta forza che il volto del Galantino corrugato allo scherno si spianò ad un tratto, come se gli si rilasciassero tutti i muscoli, e il colore incarnato e vivace per la prima volta, forse, fuggì da quella faccia tanto bella quanto sfrontata. Ora conviene sapere che tra i molti sospetti venuti alla contessa sul conto del Galantino, quando lo vide per la prima volta a Venezia in quello sfarzo, fece presa nell'animo suo anche questo, che la ricchezza di lui fosse la conseguenza di quel delitto, e ciò per la ragione che la mattina del giorno successivo all'arresto dell'amorevoli, quando a tutti quanti in casa B pareva inverosimile e assurdo che il tenore potesse aver avuto interesse a quel trafugamento, un servitore tra gli altri entrò a dire, scommetterei che è stato il Galantino. Quel sospetto gettato là da un servitore parve una gran sciocchezza, perché fu subito fatto osservare che il Galantino non avrebbe mai fatto lo sbaglio di aprire uno scrigno dove non vera che della carta scritta, essendo noto il suo attaccamento sviscerato all'oro e all'argento sonante, e una risata generale mandò per allora quel sospetto agli atti di casa B, donde non era mai uscito o almeno non era uscito in modo da poter viaggiare sino al pretorio. Ora che la contessa, in quelle strette di cuore e in quella febbre d'amore, avesse dovuto occuparsi di quell'indizio criminale, il lettore sarà abbastanza ragionevole per non pretenderlo. Ma quelle parole del servitore, scommetterei che è stato il Galantino? Parole che erano scomparse affatto dalla memoria della contessa, le si riprodussero tali e quali alla vista di lui in Venezia, come quando torna a dar fuori una macchia untuosa non ben lavata dalla saponaria. Non gliene avrebbe però mai fatto motto in quel dialogo, se il Galantino non l'avesse stuzzicata con quella baldanza, e qui fece un errore indegno di lui, baldanza che una dama di condizione non poteva sopportare. Dopotutto conviene confessare che la contessa si comportò con più fermezza e colpo d'occhio di quello che si sarebbe potuto aspettare, onde ci pare non sia sempre vero che lo studio della scienza dei corpi celesti tolga agli intelletti la facoltà di saper districarsi bene anche dalle cose terrestri. Intanto però il suo Ardi aveva avuto tempo di ricomporsi e insieme col colore che gli era tornato sulle guance gli ritornò anche in petto la fidanza, per la quale riprese di nuovo il fare squisito del gentiluomo che aveva dimenticato per un momento con tanto suo danno. Purtroppo un pie messo in fallo può balzare dall'amenità di un luogo montano in un precipizio. Signora Contessa, disse poi, ella mi fa torto, o per dir meglio, ella fa torto a se stessa dando luogo a sospetti di simile natura. Che ho a fare io col defunto Marchese F? Che interessi mi legano a lui? Poiché se non mi fu riferito il falso credo che si tratti di un testamento. Ella dunque vede bene, signora Contessa, che gli è vero che io fui il suo lacché e che se quel signore ebbe qualche vanto al mondo fu per aver avuto il primo lacché di Lombardia ai suoi servizi, ma ciò non fa che io sia un suo parente. Donna Cleglia taceva, ma nella sua testa era penetrata la convinzione che quel che aveva sospettato era vero. Nella bilancia della giustizia legale il rossore, il pallore e lo smarrimento sono imponderabili morali, ma nella bilancia dell'uomo valgono più della stessa colpa confessata. Bene, qualche volta dai il caso che nelle nature eccessivamente sensitive il rossore ed il pallore compaiono per quelle arcane movenze dello spirito che si conturba pure al semplice annunzio delle colpe altrui, ma ciò non poteva succedere in quella natura di cuoio della che Galantino, il quale se pote sgomentarsi alle parole della Contessa fu perché era tutt'altro che preparato a sentirle, e la sorpresa lo rovinò, che sotto il lavoro immediato della sorpresa l'uomo di solito smarrisce il suo carattere abituale. Ma alle parole del Galantino così rispose la Contessa. Io ti dico quel che si pensò di te a Milano, non già quello che ho pensato io, né che penso adesso. Io non sono la giustizia, e basta che io pensi e provveda a me. Ti dico soltanto che può bastare un sospetto a perdere un uomo, e che perciò ti giova a rar dritto e prudente, e non immischiarti con le famiglie patrizie di Venezia, e non toccarle loro figlie, perché l'orgoglio dei veneziani è tale che guai se scoprissero quello che tu sei, che d'uno in altro fatto si potrebbe... tu mi comprendi. Obbligarmi a non far la corte a nessuna delle belle patrizie veneziane, rispose il Galantino, è un pretender troppo, signora Contessa, né io so se in questo, quando mai si presentasse una bella occasione, potrò accontentarla. Pur d'una cosa trovo che è mio dovere esaudire i suoi desideri, perché se la signora Contessa conosce la famiglia Zen e ne ha preso a proteggere la bella figliuola, io mi asterrò da questa pratica, sicuro peraltro di fare un gran dispiacere alla ragazza, del qual dispiacere voglia a ella, signora Contessa, pigliarsi tutta la responsabilità. Donna Clelia non rispose, e il Galantino si licenziò, grazioso, sorridente, e gaio in apparenza, come un damerino a cui la dama adorata gli avesse detto di sperare. Quando la Contessa rimase sola, chiamò il servitore, cui raccomandò di non lasciar mai più entrare quel signore, poi si mise a fare tra sé e sé una consulta su ciò che gli restava ad operare in quella circostanza. Pensò a quello strano e quasi inverosimile concorso di accidenti, per il quale, in un modo lontanissimo da tutte le previsioni immaginabili, venne a scoprire, o credeva almeno, l'uomo che era fuggito in quella notte fatale dalla casa F, e da cui era nato tutto il parapiglia. Per quanto però ella ne tenesse la convinzione, e a sé stessa avesse potuto giurare che il Galantino, e non altri, era l'autore del trafugamento, pure rifletteva che la convinzione morale è una cosa troppo lontana dalla certezza fisica, per poter così di leggeri metterne le mani della legge inesorabile un giovane che, per quanto fosse tristo e avesse tutta la capacità a quel delitto, pure non si poteva assolutamente escludere dalla possibilità la sua innocenza in quel caso speciale. Considerava poi che non era facile a trovare la cagione verosimile del trafugamento consumato da quell'ex la che di casa F, perché e documenti scritti e testamenti non avevano nelle sue mani nessun valore utile per lui. Ella sentiva inoltre una versione invincibile a farsi denunziatrice di un fatto a danno altrui, anche data la piena certezza della colpa, anche data la certezza che, a tacerla, si potesse recare mali gravissimi ad altri. Sono le solite lotte dell'intelletto e della logica col dominio del sentimento, o di quei sentimenti che, generati da controversi principi e da pregiudizi, si piantano nel cuore dell'uomo a trattenere i consigli della ragione e della coscienza. Siccome poi la comparsa in giudizio della Che Galantino, come reo imputato del trafugamento, poteva aprire la porta alla prigione del tenore amorevoli, così l'eccesso di questo desiderio era di impaccio a Donna Cleglia, la quale avrebbe voluto che il vero balzasse netto e schietto sul banco del giudice, senza che ella vi dovesse aver parte. In ogni modo, dopo aver messo a contatto e in disputa nel suo cervello tutti i pro e tutti i contro, pensò di scriverne alla sua consolatrice e consigliera Donna Paola Pietra, sotto condizione del più profondo segreto. Fine del libro secondo Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti